La legge urbanistica ad oggi all'esame del Consiglio regionale conferma, se ce ne fosse bisogno, che la Giunta Pigliaro e la maggioranza di centrosinistra che la sostiene sono completamente scollegati dalla società sarda. Quanto sottolinea in una nota Mario Puddu, candidato al Movimento 5 Stelle, alla presenza della Regione. Dopo le proteste di urbanisti, intellettuali, associazioni e tanti cittadini, ora arriva anche la critica forte del Consiglio delle Autonomie Locali e di tantissimi sindaci, scrive Puddu. Espressioni come eccesso di burocratizzazione, pressante azioni di controllo della Regione sui comuni e infine l'accusa di ignorare il problema dello spopolamento delle zone interne, farebbero tornare sui propri passi chiunque. Per Puddu, invece, Pigliaro e Riù preferiscono ignorare la volontà dei sardi. Questa è un'altra conferma del fatto che il Consiglio regionale non è più sostanzialmente rappresentativo della volontà dei cittadini, scrive Puddu. La nostra idea, invece, è quella di coinvolgere i sardi nel governo del territorio e di trovare il giusto equilibrio tra il mantenere la testimonianza della memoria della Sardegna e progettare un futuro sostenibile e compatibile con la massima salvaguardia di un bene comune che, sottolineiamo, è irripetibile, specifica Puddu. Per questo motivo non sono accettabili il tentativo di riprendere a costruire nella fascia dei 300 metri la tendenza a favorire il consumo del suolo. Il Movimento 5 Stelle, invece, è a favore della promozione di un modello di sviluppo equo e sostenibile basato su una visione strategica della Sardegna nel contesto mediterraneo e globale e che sia il più possibile partecipata e condivisa, ricorda Puddu. Dobbiamo ripartire dal piano paesaggistico regionale, rafforzarlo, aggiornandolo ed estendendolo alle zone interne dell'isola per superare finalmente gli squilibri tra esse e le zone costiere. Secondo Puddu, la legge del centro-sinistra, inoltre, non dice nulla riguardo all'abusivismo edilizio, che invece va contrastato anche attraverso la creazione di una struttura permanente di monitoraggio, potenziando la vigilanza con un controllo puntuale e costante del territorio.